Una grande festa per i primi calci all'ESA, la prima volta di un raggruppamento arcobaleno in Italia. Che cos'è questo raggruppamento arcobaleno? Allora, questo raggruppamento arcobaleno è un'idea sviluppata secondo un processo legato alla Federazione Italiana Gioco Calci e principalmente al settore giovanile scolastico che vuole cercare di portare il fair play come principale argomento all'interno di queste categorie. Quindi quattro società hanno aderito a questo progetto e le squadre per la prima volta arcobaleno perché le squadre vengono mischiate. Quindi i bimbi di ogni squadra giocano con ragazzi di tutte le altre squadre. Per cui si torna un po' alle origini, quando noi nelle prime volte arrivamo in un qualsiasi spazio con quattro sacchetti e un pallone ci mischiavamo e si giocava. L'obiettivo è lo stesso. Quindi i bimbi si trovano per la prima volta a giocare con degli altri pari età quando stiamo parlando di età 2010 e 2011. Su quattro campi differenti. In due campi si giocherà in cinque contro cinque in altri due campi si giocherà con quattro porticine e in un altro si giocherà con una superiorità numerica. Questo per sviluppare i progetti tecnici della Federazione. Però per la prima volta si sviluppa questo raggruppamento chiamato arcobaleno proprio perché i colori sono mischiati e non si ha una definizione delle squadre come di solito accade. Ha proposto il progetto alla Federazione, il Lesa Vergante, come è nata l'idea e se siete contenti? Sono molto contenta di quello che sto vedendo, di quanti bimbi stanno giocando adesso, si stanno divertendo. L'idea è nata, vabbè, a parte un percorso di studio che mi ha portato con un master nello sport intervento psicosociale a guardare il calcio con un'ottica diversa. Noi come Lesa vorremmo proporre un calcio come agenza educativa e quindi insegnare prima di tutto i bambini a stare insieme perché arrivano qui e alle volte con un po' troppo pressione da parte dei genitori, con una ricerca troppo eccessiva del risultato. In questa maniera qui i bambini oggi stanno semplicemente giocando, si stanno divertendo con bambini nuovi, non c'è un bambino più bravo o un bambino meno bravo ma semplicemente c'è solo voglia di giocare e soprattutto tanta tanta fantasia perché alle volte nel cercare di specializzarli un po' troppo nel calcio gli priviamo di quello che è il briciolo di fantasia che potrebbero mettere in campo perché si cerca un po' lo schema, la tattica, il risultato. In questo modo non possono, possono mettere solo in campo quelle che sono le competenze acquisite con tutta la loro originalità e fantasia.